E per tutti ragazzi sono Gilbert che sono qui oggi tornato a fare un video importantissimo perché come saprete io mantengo sempre le promesse Tanjiro è uno dei tre ragazzi che ha vinto durante la serata live degli 1v1 tra gli iscritti dove colui che vince resta in campo Questi sono i live che faccio almeno 1-2 volte a settimana essendo però live molto frequentate quindi ci sono codi da 20-25-30 persone ho dato la possibilità di saltare la coda abbonandosi ad 1€ Infatti come vedete l'ultimo sub in alto a destra è Manu by the way che tra l'altro è colui che ha vinto gli ultimi 1v1 perché è l'ultimo che è rimasto alla fine della serata E ha vinto in finale con Tanjiro Ho dato la possibilità però visto che Fortnite è un gioco un po' casuale ho dato la possibilità a coloro che vincono dalle 7 e le 10 parti di 1v1 di vincere comunque il video insieme a me Vi chiederei cortesemente infatti vi lascio il link in descrizione di Tanjiro di passare dal suo canale perché è un ragazzo molto 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 forte Nel caso non l'aveste visto o ancora la live sul canale potete andare velo a vedere è veramente fortissimo Vi chiedo cortesemente di passare al suo canale perché? Perché più gente va più la gente è invogliata appunto a partecipare a questi 1v1 e più da la possibilità a me di rendere magari più appetibili le live Magari dare premi, V-backs, robe del genere quindi vi chiedo cortesemente di passare Vi ricordo che io vado in live praticamente ogni sera o ogni pomeriggio trovate sempre su Instagram nelle storie l'orario in cui vado in live Vado in live qua su YouTube e soprattutto ragazzi vi ricordo che con l'abbonamento di 1€ quindi il prezzo di un caffè potrete appunto abbonarvi al mio canale per un mese Quindi saltare tutte le code che vorrete in ogni live io faccio spesso live tipo 1v1 dove ci sono code lunghe quindi salendo la possibilità Abbonandovi avete la possibilità di saltare la coda e non stare lì e aspettare ore e ore e ore Faccio anche le zone wars per dire e quindi per dirvi le zone wars consistono in partite in lobby chiuse in cui io invito gli abbonati e gli iscritti in live Solo che gli abbonati stanno in quante partite vogliono mentre gli iscritti che io comunque rispetto perché infatti gli do la possibilità di restare nelle partite Hanno un tot di match da disputare poi ovviamente devo cambiare le lobby Regà ora il Tanjiro non mi sta sentendo perché io sto facendo la intro ci picchiamo tra poco che registriamo insieme un po' di solo vs 2 Regà big supporto per Tanjiro e big supporto per il G-Bone Bella regazzuoli Beh vado Perché quello la vola già laggiù Bah vorrà so qui no Oppure vorrà salto la minica Può darsi che vado a salto la minica Perché al sennò non ha senso andare adesso al rifugio Sicuro vorrà salto Dai dai ressa ressa Mi mancano un po' di materiali 700 non so Beh è già un fighter Ci entri? Sì, non porti chiaramente Se qua mi sa che ho un bottazione No, dai No, dai Non mi builda Non mi... Oh, ma quanta vita Stavo giocando Stavo giocando con lui Mi prende così Oh, però no, no Stai arrivando gente Beh, io non c'ho più usato il combat Da quando c'ho più usato il combat No, non me ne hai, non me ne hai Vedo, dai, capito Qui mi hanno dato uno shieldino e uno shieldone Come mi ho preso dammio? Come? No, aspetta No, aspetta Qui mi viene pulato Ehm, non puoi Ce la fa testarda Ah, perché tutto è che è un... Può benissimo fartelo un 130 Ok, ok Io non ho capito Quanta vita aveva Secondo me Devi giocare un pelo più safe Perché il forte è abbastanza casuale Può benissimo entrarti un hit Così dal nulla Cioè, deve essere... Un pelo meno confident E... Cioè, giocare più safe Ehm, a parte che safe Anche un pelo più serio Quindi li prendo sotto gamba Molti No, no, dov'è il bot? Ma mi sa che stanno sparando di cose Di cecco vai... Colpo due... Cioè, colpo uno Di sei di colpo sicuro? Eh Eh, lo so Perché essendo solo versus duo Poi si tirano in due E' difficile No, a parte se non botto il domino Mi aiutano peggio Come ha fatto a fermarsi in volo, quello? Sta laggando Quelli sono belli scarsi E al combat non toglie veramente niente Oh, basta! Non mi copre Come ti è passato in quei muri lì? Lo sa solo lui, eh Minchia, ma la scala, i muri E poi? Io mi tirai le spescine Perché sono nella cura che si dà Cioè, tira-tira o shieldone E poi tira-tira Non tirare le spescine Sì, 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 no Quattro... Quattro sc... Le spescine sono buone come il pane Brucia, brucia! Cazzo Madonna Come faccio a non prenderli? Per me... Si è un po' avventato il cieco Alla fine il cieco deve essere un'arma che... Cioè, i ciechini Nella realtà sparano a colpo sicuro Cioè, piuttosto che farti sentire E piuttosto non mi sparare Cioè, io l'ho pensato così poi No, ma è piuttosto non mi prenderlo Un detto... Iiii, che rischio GG Buono, c'era lui di cosa Non mi ha sparato a solito? Eh, penso da sud Ah, vedi che c'era il robot, l'ha un distrutto Va giù Via Cioè, me la più vicina, è qua a sinistra Forza, troia Bello GG Mi è piaciuta questa chi Bravo C'era un nonno, adesso vuoi La merda che c'è il robot dopo là E non l'hanno ancora preso O provi ad andare là e distruggerlo O sennò, poi in endgame, quello lì sarà bella torta Non so, ma ci faccio perché... Oh Vuoi pushare questi? Sì, forse sì Ui Mi rifarezzo direttamente No, no, eh No, non ho fatto headshot Dalla mia visuale era non headshot Ma dalla mia uno era headshot Io parlo del colpo di città Io non ho capito Come ho fatto non togliergli lo scu... Anche quella È vero Bravo Bella questa Non sarei nemmeno a confermarlo perché tanto... Tengo comunque la qui C'è la 6 No, lo so, ma l'ho confermato... C'è, 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 c'è C'è, c'è, c'è Vabbè, usa la jump, usa la jump Dov'è? È vero, prova a laserarlo Bello? Bravo, bella questa, mi è piaciuta Mi è piaciuta molto C'è che devo andare a prepararsi al loot Sì, 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 prenditi il loot Se mi è piaciuta un bot Una cosa che puoi provare a fare è andare... Beh, là dentro è difficile che ti prendi Ma partì che l'hanno depotenziata, è vero il robot, cazzo dico Ora c'è solo più 6 cosi Sì, ma... Sì, sì, è comunque forte, però l'hanno depotenziata un bot C'è ancora un robot? Sì, sì, sì C'è un airdrop qui sotto Ma io non andrei per l'airdrop, tanto... C'è da sinistra, sinistra Bello, bello C'è ancora quello a sinistra Che è sceso giù È un bot, è un bot, è un bot Che cazzo... È la dietro... È la dietro... È la roccia... Vaffanculo, gioco No, in realtà se ne vediamo... È sparito, guarda, è sparito Ma che confusi questi... Ti conviene, ora devi provare a laserare il coso, perché se no... Io robi... Oh, è il jump Bene, 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 bene... Devi aiutare gli altri, perché sono in due No, no, io non lo farai quello Prova, vedete Aspetta, si sta per distruggere forse? In lontananza No, no, l'ho già distrutto, l'ho già distrutto Buon, buon, perfetto Io forse prenderei più il cicchino e la mitraglietta, magari Mmm, cazzo, è vero Non lo so Ah, prendi quello, prendi quello, che è la cosa più tumorosa What? Perché il gioco vale di qualche... Io me la giocheri in safe adesso, andrei per primo in safe Build in ferro, yes Tanto le 10 kill ce l'hai già E aspettare che si fai trontare l'oro, perché sei due contro due contro uno Quindi devi cercare... Non devo misciare come? Se buildi qua in ferro Fai due costruzioni, così magari gli altri pensano che sei in due Tanto materiali ne hai Buono, ora stai lì e guarda Ma, vediamo un po', tu cerca di... Tanto non c'è il cicchino, quindi stai solo guardare, non piccare Perché tanto magari ti sniper o no Vediamo un po' Vediamo un po' cosa puoi combinare Ho montato un po' Ha jumpato, oh, ha messo la jump C'è che di raserarlo in volo, questo Perché mi salta, per giro? Bello, bello, bello Tento a destra Non eseggiare, secondo me basta Secondo me va bene così Peccato Prova a sinistra Bravo Ok, non spaccare più, non spaccare più Nooo Buono, buono Buono, buono Tanto che ci siano altri due Altri due che non sai dove sono Buono Non eseggiare, bello da sinistra Ecco, continui a danneggiarli così va benissimo Tanto da destra che ti possono separare Sto mirando Non farlo più Non farlo più che sei senza cecchino E mi sa dove sei Mi ho fatto aspettare un colpo Però ho sbagliato Eh, lì però si spara un secondo Prima ti kill Ma io non ho capito perché Ecco prof Tento alla destra Ce n'è una destra Ce n'è una destra Lì ce n'è Non c'è nessuno Ah, ok Non c'è nessuno Era lui qua D'austra Bravo, bella, bella, bella Vai di coso Anche lui lì è one Bravissimo, bravissimo T'hai giocata bene Lo sniper dove è? Ti fai cadere, ti fai cadere Oh no Oh no Oh no Ah, peccato Scrivetele si è giocata male Lui, gli ultimi due Eh, vabbè Ci sta Non è che Alla fine c'è i 12 kill Eh, è difficile di giocare In solo versus Duo C'è sta Regà Vi ricordo a tutti Di passare al suo canale Lo trovate in descrizione Passate perché è veramente Veramente devastante Cosa dite? Li merita i clash Sì o no? Mi lascio a voi nei commenti Bella ragazzuoli Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine